questo video in collaborazione con archimediabellearti.it è un e-commerce dove puoi trovare tutto quello che ti serve per disegnare e colorare oggi vediamo i colori per tessuto pastello ciao sono patrizia questo è il mio canale pato 74 dove parlo di moda ma parlo anche di come disegnare la moda e il figurino con diverse tecniche oggi vediamo dei bellissimi un bellissimo set di colori pastello che ho provato su questa canotta poi ho fatto la prova vedi tutto in questo video anche su questo che è un pezzo di una borsa quello che rimane di questa borsa ormai è questo pezzo qui e su questo su quello che rimane di questa borsa ho fatto la prova quindi sono diversi supporti e poi ho voluto provare anche sul jeans allora questi sono i colori da tessuto royal talent il set pastello sono quattro colori stupendi che vedrai proprio nel video noi ci vediamo al fondo del video per tutte le spiegazioni bene adesso vediamo cosa mi ha mandato archimedia mi ha mandato dei colori da tessuto che voglio provare oggi insieme a te e sono molto curiosa di vedere la resa perché è un bellissimo set di colori pastello e di royal talents sono quattro colori pastello comincio con il jersey di cotone in questo caso io uso una canotta potresti usare anche una t shirt vediamo come viene questo è il colore dentro il tubetto mi raccomando se vuoi usare i colori da tessuto devi prendere leggere la composizione e assicurarti che il la t shirt o quello che vuoi dipingere sia soprattutto in fibre naturali questo un jersey di cotone con pochissimo la stan quindi va benissimo vedi come questi sono dei colori molto densi che si stendono molto bene e mantengono la luminosità ti consiglio di agitare il botticino prima di usarlo tutte le volte e soprattutto chiuderlo anche molto bene così non si secca perché sono ad acqua vedi che io ne uso molto di colore perché voglio che venga assorbito dalla fibra soprattutto questa è una t shirt di cotone e quindi alle costine e cerco di dare più colore possibile e stenderlo per fare in modo che venga assorbito bene rende molto bene come colore ragazzi questi sono colori pensati per i tessuti chiari chiudi bene il botticino adesso voglio provare anche questo color pesca loro l'hanno codificato come colore arancio però a me sembra tanto un color pesca tra l'altro i colori pastello sono di super tendenza quest'anno se hai una t shirt bianca o una canotta bianca dove vuoi farti un tuo dipinto con i colori pastello è perfetto vediamo l'ultimo colore di questo set che è l'azzurro un bell'azzurro pastello e io cerco sempre di darne tanto poi dipende sempre da come hai fatto il tuo dipinto però vedi che si tira molto bene in genere cerco di fare in modo proprio che il colore penetri nella fibra quello che in più quando verrà lavato viene via però così sono sicura che viene proprio assorbito dal tessuto se riesci dai anche più passate per tirarlo bene poi quello dipende sempre da che tipo di dipinto fai questo è l'azzurro quindi li abbiamo visti tutti e quattro questi bellissimi colori pastello di questo set li abbiamo visti sulla t shirt di cotone questa è una canotta bianca perché sono apposta apposta per i tessuti bianchi mi raccomando fallo asciugare due ore almeno poi lo giri a rovescio e lo stiri bene mi raccomando stirare e poi dopo andare a lavare con un detersivo delicato in acqua fredda a mano vedi che una volta asciutto il colore rimane rimangono comunque luminosi adesso ho preso una tela di una borsa Archimedia mi ha mandato una borsa bianca in tela di cotone io ne ho tagliato un pezzo per farti la prova è molto più facile dare questo colore sulla tela di cotone rispetto al jersey perché il jersey ha le costine come vedi rende molto bene anche qui cerco di fare in modo che il colore penetri bene nella fibra così quando lo lavo rimane è fondamentale stirarlo non dimenticatevi di stirare le vostre opere sui vostri capi prima di lavarli perché se non lo stiri prima di lavarlo viene via quindi è importantissimo farlo asciugare ma è anche altrettanto importante stirarlo dal rovescio vedi come questi colori sui tessuti chiari sono bellissimi oltretutto sono anche coprenti sono molto coprenti fai asciugare almeno due ore stira al rovescio lava a mano va lavato a mano con detersivo delicato e il risultato di questa tela di cotone è questo ovviamente poi andrà stirato una volta che è asciutto io te l'ho voluto far vedere proprio così adesso ho deciso di fare un esperimento con il jeans questi non sono un set di colori pensati per i tessuti scuri o medi perché questo è un jeans di colore medio però visto che questo è un tutorial io ho voluto provare anche sul jeans perché se tu dovessi avere questo set e vuoi farti qualche cosa con questi su un jeans lo puoi fare benissimo tieni presente che adesso il colore si vede perché è bagnato però quando asciuga poi te lo farò vedere praticamente non si vede quasi più questo vuol dire che tu puoi fare dei dipinti sul tuo jeans azzurro medio che sono leggerissimi se vuoi fare dei fiori o un dipinto leggerissimo che sia delicato, sofisticato, che si vede il giusto questi sono colori che vanno bene perché una volta che diventano asciutti saranno chiarissimi vedi qui come questi colori comunque cambiano anche un po' virano un po' sul blu perché prendono il colore del tessuto sotto sono colori per i tessuti chiari ma io te li ho fatti vedere lo stesso sul jeans adesso quando saranno asciutti vedrai come sono chiari vedi che sono chiari e poi lavandoli si schiariscono ancora di più qui hai l'esempio dei tre tessuti che ho utilizzato per questo tutorial il primo è la canotta come ti dicevo la canotta in jersey e lavandola hanno tenuto benissimo il pezzo della borsa in tela qui non ho stirato nulla dopo il lavaggio perché volevo farteli vedere così come sono e anche su questo tela in questo pezzo di tela della borsa hanno retto benissimo sul jeans ovviamente sono chiarissimi saranno quasi impercettibili dipende dall'effetto che vuoi fare potresti anche solo colorare una tasca di un colore diverso che non fa tanto stacco e non fa tanto contrasto a scelta tua questo è un bellissimo set di colori pastello pensato per i tessuti che hanno i colori chiari ha retto bene il lavaggio mi raccomando fondamentale lasciare asciugare due ore stirare al rovescio perché se non lo stiri prima di lavarlo viene via quindi assolutamente va stirato lo lavi a mano delicato e poi a quel punto quando è asciutto lo vai di nuovo a stirare tieni presente che quando decidi di fare un capo che può essere una t-shirt o una borsa dopo quando tu te lo dipingi a mano dopo lo dovrai lavare sempre a mano cioè quello lì diventerà un capo speciale un pezzo speciale che non andrai a lavare tutti i giorni mettendolo in lavatrice l'ideale sarebbe dargli una lavata a mano è ovvio che nelle istruzioni ti dicono che lo puoi anche mettere in lavatrice ma io eviterei perché se fai dei dipinti particolari con tante decorazioni è meglio trattare questo capo come un'opera d'arte e quindi andarlo a lavare a mano in modo delicato bene spero che questo video ti abbia fatto venire l'ispirazione di provare a fare qualcosa anche tu quello che ho voluto fare è stato di provare questi colori su diversi materiali come ti ho detto più volte non mi stancherò mai di ripeterlo questo set è per i tessuti chiari ovviamente io che faccio sempre gli esperimenti quelli di voi che mi seguono lo sanno se sei nuova benvenuta ho voluto provare anche sul jeans che non è un tessuto da un colore chiaro quindi è ovvio che se guardi non si vedono quasi più però se tu ti volessi fare qualcosa di molto leggero magari puoi anche provare la cosa importante dei colori da tessuto è soprattutto lasciarli asciugare allora nella confezione c'è scritto di farli asciugare almeno mezz'ora io direi almeno due ore e lavarli stirarli 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 ragazzi perché a me è capitato di fare i miei esperimenti mi sono dimenticata di stirarlo l'ho lavato ed è andato via quindi mi raccomando non fate come me stirate assolutamente stirate prima di lavare ora vedi la differenza che c'è di resa l'hai vista nel video sia per quanto riguarda diciamo una canotta in jersey che per quello che rimane di questa borsa questi sono dei colori delicatissimi stupendi in questo set ce ne sono quattro che sono meravigliosi dal verde al rosa al pesca all'azzurro ti consiglio proprio di provarli se ti piacciono questi colori così leggeri soft sono molto molto belli per quelle di voi che non sanno disegnare oh mio dio come faccio trucchetto gli stencil questi qui li trovi tranquillamente dappertutto ti ricalchi il disegno e ti fai quello che ti pare e quello che voglio farti vedere adesso sono due jeans questo poi l'ho tagliato per onore di cronaca poi anche questo e poi anche questo sono ben tre video dove ti faccio vedere come colorare con i colori da tessuto e oltre a questi di Royal Talents Archimedia mi ha mandato anche questi marabu e questi set a color trovi i video di tutti questi colori con degli esempi come la tasca del jeans magari il davanti poi ovviamente il soggetto te lo sceglierai tu questi video qui li trovi già li trovi già pubblicati valli a vedere e poi ti ho fatto anche un video dove ti parlavo proprio di come utilizzarli tipo questo proprio tu d'Oreal di base per capire come funzionano tutti i tipi di colori da tessuto tutti i tipi di colori da tessuto vanno stirati fatti asciugare stirati e lavati a mano quel capo che tu deciderai di dipingere come tua opera che sia una cosa più grande una cosa più piccolina soprattutto quando è più grande mi raccomando li lavi poi con delle insomma a mano non distruggerli strofinarli massacrarli insomma cercate poi di avere cura di trattare anche se fosse un jeans come questo io comunque lo lavo delicato almeno cioè non è che uno se li mette sempre dei jeans così adesso sono molto di tendenza per cui vai a vedere questi altri video e se ti piacciono i colori pastello che anche quelli sono una super tendenza questo è il set perfetto vedi come sui chiari sui tessuti chiari è stupendo io ho provato qua con questa canotta vedi che poi sta benissimo nel senso che sono dei colori veramente bellissimi se ti è piaciuto questo video fammelo sapere mettendo un like fai i tuoi esperimenti anche tu con tutti questi bei colori da tessuto divertiti perché dipingere i jeans le t-shirt oltre a essere una soddisfazione è anche una tendenza soprattutto i jeans vai a vedere gli altri video che ho fatto per gli altri colori noi ci vediamo tutte le settimane su youtube seguimi anche su instagram e sul sito di archimedia belle arti ovviamente trovi tutti i tipi di colori possibili immaginabili per i tessuti io qui te ne ho fatti vedere degli esempi e scegli se li vuoi più chiari se li vuoi più scuri oggi la mia volontà era quella di farti vedere questo set pastello perché è anche in super tendenza mi ha fatto piacere fare questo video per te ci vediamo la prossima settimana un grande saluto da patrizia patò 74 ciao